ciao bambini oggi ci concentriamo sulla descrizione di persone descrivere una persona è importante presentarla dire chi è il nome l'età dove abita che lavoro fa descrivere l'aspetto fisico l'abbigliamento il carattere il comportamento spiegare quali attività quali sport quali hobby pratica dire cosa ama cosa gli piace fare cosa detesta e finire la presentazione con un proprio pensiero sulla persona grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti